La grande novità si chiama Neofin, il prestito facile e veloce. Neofin a tutti i pensionati, fino a 90 anni, eroga prestiti fino a 40.000 euro. Neofin, il prestito facile e veloce, anche se protestati. Neofin, chiama oggi, per avere soldi già domani. Neofin, piazza Garibaldi 73, palazzo Bar Mexico, quinto piano. Telefono 081 198 09 450.